e la Granarolo con Imbro che trova Fontecchio, il tiro da due punti non va, la palla si arrampica sulla struttura del tabellone De Vidas Dulkis, grande azione per conquistare il pallone, si alzano dalla panchina Goss e Vigiano per applaudire il compagno Vedere Dulkis ancora stone però con il palleggio aperto, prova lui stesso a penetrare lo scarico sul perimetro Da Vigiano a Dulkis il tiro da tre punti, va a segno per l'umana Reier che ritrova finalmente un canestro dal campo riportandosi ad un solo possesso di